Devo dire che è stato uno slogan molto efficace, che rispecchia un po' il modo con il quale ho deciso di fare politica ormai da un po' di anni. La mia politica è una politica del fare, una politica che è sempre disponibile rispetto ai cittadini. In questi anni mi sono veramente speso tantissimo per ascoltarli, ma per cercare anche di risolvere i problemi che i cittadini mi sottoponevano. Quindi veramente uno slogan azzeccato e devo dire che i cittadini hanno riconosciuto il grande lavoro che ho fatto nel corso di questi cinque anni. Quali sentimenti dopo questo particolarissimo risultato clamoroso a livello di preferenze personali, ma di fatto che emerge da uno schieramento che ne esce sconfitto? Devo dire che sono veramente soddisfatto, perché sono orgoglioso di questo risultato. Perché se così tanti cittadini hanno voluto esprimere la preferenza, perché vuol dire che sono 10.224 persone che sono andate a votare e che hanno scritto il mio cognome. E già è molto difficile prendere le preferenze, ma prendere così tante è veramente un riconoscimento molto importante. Io quindi mi sento anche un grosso carico addosso, perché ovviamente è una grandissima responsabilità, perché se tante persone sporgono così tanta fiducia verso di me, vuol dire che adesso le persone si aspettano di essere ricambiate, cioè si aspettano che il lavoro che io porterò avanti in questi cinque anni in regione sarà un lavoro importante, a tutela e sicuramente a favore di quelle che sono le politiche che verranno fatte per questo territorio. La regione, l'ho sempre detto, è un ente molto importante, è un ente che si occupa di tante competenze e quindi questo territorio non può fare a meno della regione. E ho già detto che sarò disponibile, ovviamente sono stato eletto come consigliere di opposizione, ma farò una posizione costruttiva, nel senso che cercherò di dialogare, di confrontarmi, ovviamente spetterò anche all'opposizione, cercherò di capire se vuole dialogare o non vuole, alla maggioranza se vuole dialogare o non vuole dialogare con l'opposizione, ma per quanto mi riguarda metterò sicuramente la mia esperienza e le mie capacità a disposizione di tutta la nostra comunità. Ultima cosa, il suo risultato è forse la cartina tornasole di una politica sempre più attenta alle persone piuttosto che gli schieramenti e i colori politici. La domanda è guardando le persone sarebbe cambiato qualcosa se come candidato ci fosse stato ancora Cerisciogli rispetto a Mangialardi. Qual è la tua valutazione in merito? Beh, rispetto al sostegno a me e al sottoscritto, devo dire che è stato veramente un voto, in molti casi, anche molto trasversale. So che mi hanno votato persone anche che normalmente non votano centro-sinistra, questa è dimostrazione del grande lavoro fatto e dell'apprezzamento un po' delle persone. Quindi i cittadini hanno votato sicuramente il Partito Democratico, ma hanno votato anche Andrea Biancani come persona. Questo va sicuramente sottolineato. Rispetto a se fosse stato Cerisciogli il candidato presidente, devo dire che è sempre difficile fare con i secoli ma è difficile dire quello che sarebbe avvenuto. Cerisciogli ovviamente in questi cinque anni ha lavorato tantissimo, è stato un presidente che è stato molto sfortunato, perché ricordo il terremoto, ricordo la riforma comunque sanitaria, una riforma che è iniziata non dal presidente Cerisciogli, ma era precedente, poi non era mai stata applicata. Il tema di Banca Marche, quindi difficile dirlo. Io dico solo che Cerisciogli sono stato vicino con lui tutti questi anni, ha lavorato tantissimo, ma probabilmente non è riuscito a trasmettere tutto il lavoro che aveva fatto ai cittadini.